Ciao a tutti sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi Che cosa è successo tra Antonella Fiordelisi e sua sorella? Le due sono ai ferri corti e ormai non si parlano più, ecco il vero motivo Quello di Antonella Fiordelisi è senza ombra di dubbio uno dei nomi più chiacchierati di tutti i tempi La giovane modella originaria della campagna si è fatta conoscere non soltanto per la sua incredibile bellezza ma anche per la simpatia e per la genuinità che la caratterizzano Vera star su social, la grande fama per la bella Antonella è arrivata grazie a Temptation Island Qui la Fiordelisi ha vestito i panni di tentatrice, facendo il suo primo ingresso nel mondo dello spettacolo Qualche anno dopo la celebre Antonella ha preso parte al Grande Fratello Vip, il programma che l'ha resa amatissima dal grande pubblico italiano Oggi tutti conoscono Antonella Fiordelisi, che è ormai diventato un personaggio pubblico a tutti gli effetti Proprio nella casa più spiata d'Italia la giovane modella ha tenuto gli italiani incollati al piccolo schermo, grazie alla love story nata proprio tra le mura di Cinecittà con Edoardo Donna Maria In particolare, nella casa del Grande Fratello Vip la Fiordelisi si è lasciata andare ad una confessione che ha dell'incredibile e che riguarda la sua famiglia Che cosa ha raccontato la celebre Antonella? Antonella Fiordelisi, chi è la misteriosa sorella? Nonostante la sua incredibile notorietà, la Fiordelisi ha sempre mantenuto un proverbiale riservo per tutto ciò che riguarda la sua vita familiare A dimostrarlo è il fatto che la bella Antonella è finita spessa al centro del gossip per le sue relazioni amorose, ma in pochissimi sanno che la Fiordelisi ha una sorella Lei si chiama Maria Antonietta e non fa più parte della vita dell'ex Geffina ormai da parecchio tempo Nella casa del GFV la Fiordelisi ha parlato di sua sorella, più grande di lei di qualche anno e nata da una precedente relazione avuta dalla madre Le due, infatti, hanno due papà diversi ed è stato proprio questo a dividerle Secondo quanto riportato da Leggo.it, la Fiordelisi ha raccontato di come sua sorella non abbia mai accettato la separazione dei genitori e il fatto che la mamma si sia rifatta una vita con il papà di Antonella La modella Campana ha rivelato di aver avuto un bellissimo rapporto con sua sorella da bambina, ma che comunque le due non si sentono più da ben 5 anni La lontananza dalla sorella fa molto soffrire la Fiordelisi, che non aveva mai parlato prima d'ora della sua delicata situazione familiare Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video